C'è speranza, c'è la possibilità della riconciliazione, perché Cristo è venuto, ha dato la sua vita per noi e gli ha preso la mano di Dio e la nostra mano, potrei dire, e le ha congiunte, ci ha riconciliati, ci ha fatto fare pace con Dio. Mentre leggevo la parola di Dio ho inginocchiato proprio il mio cuore e le mie ginocchia, ho pregato il Signore, ho gridato il Signore, ho sentito la sua presenza, dalla testa ai piedi, proprio ho sentito la presenza dello Spirito Santo che entrava nel mio cuore, reale, profonda, e mi sono sentito ripieno dell'amor di Dio, ho sentito la certezza dell'eternità. Perché non ci riconciliamo con Dio? Perché non entriamo in un rapporto, in una relazione stretta con Dio? D'altra parte la Bibbia dice che chiunque riceve Cristo diventa figlio di Dio. Grazie. 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 Grazie.